Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere perché questa è la dimostrazione che il radicamento sul territorio alla fine riesce a sempre pagare. Io credo che sia all'interno della Lega che all'interno della mia lista ci fossero persone che avevano dimostrato nel loro passato di saper svolgere bene il ruolo di amministratori, persone credibili e persone che hanno giustificato magari per tanti cittadini la voglia di andare a votare e di esprimere una preferenza. Ma credo che Salvini non abbia mai avuto momenti di debolezza, credo che sicuramente è un passaggio a favore della Lega nel suo complesso.